Buongiorno a tutti, allora, 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 le schedine e bollettine del Gigione le faremo oggi pomeriggio intorno alle 14, in modo che alle 14.30 sono online, così abbiamo quote belle e fresche, ho visto che è andata discretamente bene, ma lascio a voi decidere se è andata bene o male la mia proposta che vi ho fatto ieri pomeriggio. Andiamo alle news, 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 news di fine agosto, perché, signori miei, attenzione agli insetti che pungono, perché poi succedono i disastri. Poi il web, come al solito, regala rebelot, casini, e infine le bollette, le bollette che finiscono in vetrina, eh sì, perché adesso non ci mettono più le cose che vendono, ma le bollette che pagano. Ma, bando alle ciance e ciancio alle bande, andiamo a vedere queste tre notiziole. La prima, i vigili del fuoco, provenienti dalle sedi di Appiano Gentile e Cumo, sono intervenuti il 27 agosto scorso, poco dopo le undici del mattino, all'Urate Caccivio in via Olgiate. Qui un uomo, a causa della puntura di un insetto, ha avuto uno sciocca anafilattico, e la peppa. L'uomo è stato trovato dai sottocorritori sopra l'impalcatura della casa di sua proprietà, e i vigili del fuoco, per poterlo affidare alle cure dei sanitari del 118, hanno dovuto usare l'autoscala per il recupero con barella e successivo trasporto a terra. Quindi attenzione agli insetti se soffrite appunto di allergie alle punture di insetti, perché lì è capitato in una casa, se ne sono accorti, hanno chiamato, ti capita nel bosco, sei nel bosco, sciocca anafilattico, non riesci a prendere il cellulare perché svieni, attenzione, poi magari uno non lo sa di essere allergico alla puntura di un determinato insetto, c'è anche quello. Proseguiamo signori, perché il web regala sempre battibecchi, è sempre una scusa buona per creare. Leggiamo questa notizia che sempre di fine agosto e naturalmente succede l'altra volta perché la signora cercava un posto dove poter dormire dopo aver assistito alla partita al Como contro non so chi, voleva apposta venire da fuori zona per vedere la partita con il figlio che ci teneva a vedere la partita, si è permessa di dire paese non città, Como apriti cielo come si permette, eccetera. Anche qui, per capire quali possono essere i pensieri della gente a volte è utile farsi un giro sui social media, soprattutto nei gruppi di specifiche città, se non addirittura quartieri dove vengono sollevate questioni e creati confronti non per forza dal piglio polemico ma anche per chiedere semplici consigli, come è successo l'altra volta che la signora cercava un posto per dormire senza spendere una capitale. Gli abitanti di Como in questo sono molto partecipi e non lesinano consigli, pareri e informazioni. Non sempre le cose si sviluppano nel senso giusto e inevitabilmente qualche tafferuglio fortunatamente virtuale può sorgere. È il caso del parrucchiere arabo. Un gentile signore sul gruppo 6 di Como se di Facebook chiede se qualcuno conosce un parrucchiere arabo per donne in città per sua cugina. La domanda ha scatenato la curiosità di molti. Che differenza c'è tra un parrucchiere arabo e uno italiano? Prima di ricevere una risposta da chi ha posto la domanda molti comaschi provano a darsela da solo. I parrucchieri arabi per donne scrivono hanno paraventi per non mostrare le donne e la loro capigliatura ad altri clienti sconosciuti durante l'operazione. È questa la ragione. Si sviluppa quasi immediatamente una discussione sull'integrazione e sul fatto che la donna debba o meno imparare l'italiano. Qualcuno consiglia di accompagnarle e farle da traduttore. Altri si limitano a dire che per loro il problema non è solo la lingua ma il fatto che la cugina indossa il velo e il parrucchiere arabo ha un posto speciale per le donne velate in modo che il resto dei clienti non la veda e c'è anche una donna che lavora con lui. Avete capito il motivo? In realtà di nomi di saloni di bellezza per donne arabe a como ne sono saltati fuori pochini mentre i commenti prolificano. Alla fine un utente spazientito scrive il signore qui ha chiesto indicazioni per un parrucchiere mica una lezione di sociologia, attenzione perché la battuta è pesante, da gente che non ha finito la scuola dell'obbligo e la diatriba sociologica continua e disprudata fino all'ultimo esasperato commento di un membro del gruppo Como è proprio un paesello e qui riapre di cielo che si è permesso di dire che Como è un paesello come la signora al mese scorso che cercava un posto dove dormire nel nostro bel paesino, nel vostro bel paese, nel paesino come l'ha chiamato e quelli si sono inviperiti, anzi in lagati sono laghe, si inlagano, i nerazzurri sono viperoti, si inviperano, gli juventini si zebrano eccetera eccetera eccetera. Ma dopo la diatriba per il parrucchiere andiamo alla diatriba delle bollette perché eh signori miei i commercianti sono imbufaliti e quindi mostrano le bollette. Anche a Como e nel resto della provincia le bollette finiranno sulle vetrine di bar e ristoranti. Molti esercenti hanno scelto di sposare l'iniziativa della federazione nazionale pubblici esercizi secondo cui il caro energia sta diventando sempre più un'emergenza per le imprese con costi che nel giro di un anno sono triplicati e con prospettive di ulteriore peggioramento. Visto che le misure fin qui adottate dal governo non sono sufficienti a riportare il costo entro livelli di sostenibilità abbiamo chiesto il potenziamento dei crediti di imposta già a partire dal terzo trimestre 2022 nell'ambito della conversione del decreto legge aiuti bis. Per supportare questa richiesta abbiamo deciso di lanciare l'iniziativa bollette in vetrina con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema anche perché non è da escludere che nei prossimi mesi la spinta inflattiva si trasferisca in modo significativo sui listini di bar e ristoranti dopo mesi di relativa moderazione. Bollette in vetrina l'iniziativa di bar e ristoranti le associazioni di settore parlano di costi triplicati rispetto a un anno fa a causa dell'impennata dei prezzi del gas una situazione che sta costringendo gli esercenti a dover scegliere tra gli aumenti dei listini finora assai modesti e la sospensione dell'attività in attesa di un intervento risolutivo da parte del governo. Questa iniziativa ha spiegato Aldo Cursano vicepresidente di Fipe Commercio Nazionale all'obiettivo di rendere trasparente cosa sta succedendo oggi a chi gestisce un bar o un ristorante anche nel tentativo di spiegare ai clienti perché stanno pagando il caffè un po' di più con il rischio nei prossimi mesi di interiori aumenti. Con aumenti dei costi dell'energia del 300% si lavora con una pistola puntata alla tempia. Se il governo non interviene o si agisce sui listini o si sospende l'attività. Contiamo sulla sensibilità dei cittadini e dei clienti perché fare lo scaricabarile dei costi è proprio quello che non vorremmo fare. Per questo Fipe Commercio ha aggiunto Cursano ha chiesto al governo di potenziare immediatamente il credito di imposta anche per le imprese non energivore e non gasivore. Un credito di imposta del 15% per l'energia elettrica non è assolutamente adeguato agli estracosti che le imprese stanno sostenendo ora. Occorre però fare presto altrimenti si rischia ad innescare una spirale inflazionistica destinata a gelare i consumi. Bene ragazzoli, cioè bene, male, male, bisogna dirlo, male. Quindi non faccio vedere la maglietta spiritosa perché qua c'è poco da ridere. Anche perché se tra un po' il caffè lo paghi due euro, uno il caffè se lo beve a casa e il bar curucu. D'altronde se i costi aumentano, gli stipendi restano sempre uguali, la gente il caffè se lo beve a casa. E poi cosa succede? Che tanti imprenditori che hanno un'attività improprio devono chiudersi e cercare un altro lavoro e aumentano ancora di più i disoccupati in Italia. Più aumentano i disoccupati, più aumenta la gente che poi dopo, eh, se hai bisogno, non trovi lavoro, te lo inventi e spesso quello che te lo inventi non è mai legale. D'altronde uno deve anche mangiare. Quindi ragazzoli, occio, adesso vedremo alle prossime elezioni come andranno, tanto ci sarà un bella divisione al 50% dell'Italia tra centro-destra e centro-sinistra. Rifaranno il governo dei grandi intenti e siamo da capo. Sapete che non mi va di parlare di politica, però vi faccio la battutina. Non ho parlato di partiti eccetera, non ho detto votate per questo, non me ne guardo bene. Ognuno ha bevuti quello che, come diceva il grande Renato Zero quando gli chiedevano per chi voti, per chi mi dà il pane, per il partito della pagnotta. Quindi quello che gli conveniva di più a lui lo votava. Giustamente, com'è giusto che sia. Detto questo ragazzoli, ci vediamo alla prossima. Ciao!